Nel sito di androidblog.it registriamo questo video con Nokia X a risoluzione FWGA, quindi 854x480px con la fotocamera appunto da 3 megapixel di questo Nokia X proviamo subito una messa a fuoco che vi avviso è inesistente dal momento che il dispositivo è sprovvisto di autofocus ed ovviamente il flash led che avete già visto manca nell'unboxing proviamo anche ad avvicinarci ad un soggetto inoltre è impossibile mettere a fuoco un soggetto a meno di 50 cm che è la distanza minima prevista da questo tipo di lente proviamo subito un controsole e un fan veloce inoltre possiamo anche utilizzare lo zoom digitale fino a 4x ma vedete la qualità delle immagini diminuisce notevolmente quindi video in 480p realizzato con Nokia X